Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, bondi, chialaimo, io us do un consiglio dopo quattro di fare ciò che volete, allora una persona non sa stare tanto male che mai, non sa tradire, non sa maltrattare, mette le donne da ciò che volete di male, bene, allora la prima reazione è tornare a botte per cioccolate, però dopo anche se non tu torni il male ti resta il bruciato, hai capito di che persone, e tu stai male perché tu pensi al male che ti ha fatto, hai capito? Allora il consiglio è questo, provate a pensare che in tutte le persone, anche in queste persone con tutto il male che ti ha fatto, resta la volontà e la possibilità di comportarsi bene, che dopo tutto c'è anche buona queste persone lì, vedete? Pensando così, a voi o noi, tenessi in piada la speranza che un idiocheatro si viaggi anche una fressura per arrivare a accomodare le cose, e appena che si viaggi che fressure, si presenta che occasione, buttarsi, ecco, buttarsi dentro e ci ridi di risolvere in bene la roba. Buona giornata e buona vita!